Apertura straordinaria delle dimore storiche del Lazio nel prossimo weekend. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente ben 80 siti nelle 5 province della regione. Ci sarà spazio anche per un ricco programma di spettacoli e percorsi enogastronomici. In provincia di Frosinone sarà possibile visitare 9 luoghi, Palazzo Colonna Paliano, all'interno del quale sono conservati i trofei di guerra della storica battaglia di Lepanto del 1500, la Casa Madre della Congregazione delle Suore Cistercensi della Carità che è stata la fortezza dei Papi di Anagni, la Casa Museo Ada e Giuseppe Marchetti di Fumone, la Badia Santa Maria di Anagni, la Rocca Iannula di Cassino, il Castello Succorte di Fontanaliri, la Casa Lorenz di Picinisco, il Convento San Francesco di Roccasecca e il Palazzo Visocchi di Atina. Le visite gratuite alle dimore storiche del Lazio sono prenotabili entro venerdì 26 aprile all'indirizzo email dimore storiche chiocciolatosc.it